Io non ho nessun potere, ho conservato la fede, ma tutto quello che ho fatto, l'ho fatto per Cristo. In Prima Visione TV, il film Paolo Apostolo di Cristo. Conosco bene colui in cui credo, il male può essere sconfitto solo con il bene. Martedì 29 giugno alle 20.55 Questo è il mio Vangelo.